Il caso del mancato versamento degli stipendi e dipendenti della cooperativa Gorà è arrivato in consiglio comunale ad Arezzo con una interrogazione del consigliare della Lega, Egiziano Andreani, che ha chiesto all'amministrazione comunale di interagire con la ASL sia per cercare di risolvere un problema che potrebbe ricadere sulla qualità dei servizi offerti alle persone svantaggiate, sia per effettuare un monitoraggio sulle condizioni degli edifici come quello dove sorge la RSA Maestrini. Ci mettiamo dalla parte di quelli che sono i familiari dei degenti perché la maggior parte dei degenti non hanno possibilità neanche di interagire in quanto sono in uno stato anche, ci sono persone in stato vegetativo, quindi è importante prendere le loro difese, è importante capire se la cooperativa è in grado di gestire al meglio questa situazione visto le difficoltà che ha, perché difficoltà nel pagare gli stipendi significa avere anche altre difficoltà economiche altrimenti se no gli stipendi verrebbero pagati. Quello che è nato ieri ho portato all'attenzione anche del consiglio comunale questo problema con interrogazione all'assessore e siamo convenuti che la soluzione potrebbe derivare da un confronto, da un confronto a quattro praticamente, con il comune da una parte perché poi tutto sommato magari parte di alcune rette le deve pagare per ragioni sociali, la ASR perché è l'interlocutore principale in tutta questa vicenda e la stessa cooperativa perché gestisce le strutture, con l'aggiunto naturalmente della rappresentanza di quelli che sono i familiari perché sono questi quattro soggetti che devono trovarsi a un tavolo e quindi devono affrontare quelle che sono le problematiche, ripeto, con l'auspicio di aiutare naturalmente questa cooperativa a uscire da quello che sono i problemi che ha perché ci sta a cuore e mi sta a cuore quelle che sono le problematiche che hanno naturalmente i degenti che sono naturalmente in queste strutture. Questo è lo scopo principale di questa iniziativa. Avete provato a ricostruire che cosa c'è alla base di queste difficoltà? Quello che ci è stato detto, chiaramente noi non abbiamo gli strumenti per poter arrivare a ciò, ci siamo basati su quello che è stato pubblicato, quello che è stato detto diciamo dai rappresentanti della cooperativa. Hanno parlato naturalmente di difficoltà economiche legate a mancati introiti, per questo dicevo che mettendosi a un tavolo magari possiamo parlare, affrontare e vedere se è un problema nasce dagli enti pubblici o se è dovuto naturalmente a privati, se è dovuto agli enti pubblici naturalmente gli enti pubblici devono assumersi quelle che sono le proprie responsabilità naturalmente. Io tra l'altro ho segnalato anche ieri in consiglio comunale il fatto del fabbricato dell'RSA Maestrini dove purtroppo ci sono anche dei problemi, problemi anche di infiltrazioni e questo l'ho voluto porre all'attenzione ieri e cercherò di porlo tramite il nostro assessore anche all'attenzione diretta dell'ASDA perché intervenga perché nelle camere di degenti non si può vedere le infiltrazioni dal soffitto di acqua, insomma penso che anche l'ASDA deve assumersi determinate responsabilità per quanto riguarda il fabbricato quindi per quanto riguarda la struttura.